Ehi, tutorial facile facile per lo smalto sfumato Ciao a tutti, sono Barbara e lo scorso video in cui vi facevo vedere la mia nai routine vi è piaciuto parecchio e quindi oggi replichiamo con questo smalto rosa e il pigmento allora smaltino Shaka dell'OVS da 1,99€ non serve spendere di più in certi casi, questo ha una finitura molto glossy a me piace perché sembra un pochino trasparente questo pigmento è professionale ma se non l'avete non vi preoccupate utilizzerete un vecchio ombretto, magari con i colori in contrasto con lo smalto che utilizzerete, lo passate con un pennellino e lo sfumate con le dita ovviamente aspettate che lo smalto sia asciutto ma non asciuttissimo perché così attaccherà meglio per sigillare il tutto servirà un top coat trasparente io utilizzo quello di Kavji perché mi fa durare lo smalto 10 giorni quando è quasi asciutto aggiungete un altro po' di pigmento e questo sarà il vostro risultato unghie super cangianti con questo effetto perlato se vi è piaciuto mi raccomando mettete lo sto like che vi costa e ci vediamo nei prossimi video un bacio a tutti quanti, ciao ciao!